Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo a voi incomberà il dovere di addolcire il dolore di mia madre ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa al manacco di bellezza 14 agosto Leonardo Piccinini Piero Maranghi la resistenza ha avuto tante eroine a Bologna una via e una lapide sono a ricordarci sempre della prima fra le donne bolognesi che impugnò le armi al grido di libertà Irma Bandiera già il nome poi pensiamo ai fratelli Bandiera eroina nazionale 1915 1944 il tuo ideale seppe vincere le torture e la morte la libertà e la giovinezza offristi per la vita e il riscatto del popolo e dell'Italia solo l'immenso orgoglio attenua il fiero dolore dei compagni di lotta quanti ti conobbero e amarono nel luogo del tuo sacrificio a perenne ricordo poserò la lapide è su un palazzo elegante al meloncello siamo fuori le mura dove inizia la meravigliosa scalata a San Luca e Irma Bandiera è nata qui l'8 aprile del 1915 e scomparsa esattamente 80 anni fa il 14 agosto del 1944 aveva quindi 29 anni questa eroina nasce nel pieno della prima guerra mondiale ma passa un'infanzia e un'adolescenza serene famiglia benestante che le assicura studi e formazione per diventare una donna emancipata e moderna e nella vita di Mimma Mimma come la chiamavano in famiglia c'era un fidanzato Federico che viene chiamato militare a Creta e viene fatto prigioniero dopo l'8 settembre quel fatidico 8 settembre del 43 che tanto occupa dei nostri almanacchi la nave su cui viene imbarcato per il trasferimento in Germania viene bombardata e affondata nel pireo il suo corpo come quello di tanti altri non fu mai ritrovato e fu dato per disperso Mimma allora aveva 28 anni con la sua famiglia fece ricerche senza frutto anche attraverso il Vaticano e non fu solo l'aver perso l'amore un ideale romantico a spingere Irma ad agire diversamente da tante altre coetanee cresciute in quel contesto Irma non poteva sopportare di vivere in un paese arcaico come l'Italia fascista. Arcaico e molto di più lei già nel 32 aveva manifestato una profonda insofferenza nei confronti di Mussolini che aveva rilasciato delle dichiarazioni che in qualche modo avevano stroncato sul nascere i sogni di questa ragazza e al giornalista tedesco Emil Ludwig il duce aveva dichiarato la donna deve obbedire la mia opinione della sua parte nello stato è opposta a ogni femminismo più chiaro di così nel nostro stato essa pensa la follia pensa non deve raccontare solo un anno dopo alle parole erano seguiti i fatti con le leggi che escludevano progressivamente le donne dal lavoro e da qualunque altra possibilità di realizzazione autonoma cosa volete che vi dica. Irma inizia così a interessarsi di politica aderendo al partito comunista e dopo l'incontro con lo studente partigiano Dino Cipollani entra nel movimento di resistenza nella settima brigata GAP di Bologna il nome di battaglia le viene in mente senza troppe difficoltà quello che usavano in famiglia Mimma nessuno avrebbe mai immaginato che una ragazza di buona famiglia potesse essere in realtà una staffetta partigiana abituata a fare appunto la spola tra le due basi della settima squadra GAP e Irma si spostava nei sotterranei dell'ospedale maggiore e raggiungeva la vecchia fabbrica quella vicina a portalame e i luoghi questi erano dove appunto si riunivano i GAP ricordiamolo gruppi di azione patriottica GAP e lei portava documenti armi da una parte all'altra questo per dire che la parola patriota è stata usata poi da tutti mentre oggi diventa una sorte sì in Francia è diverso moscea compatriota compatriota lasciami dire però che l'appropriazione della parola patriota da parte della destra è stata un lascito della sinistra che non l'ha usata abbastanza non l'ha usata abbastanza dovremmo usarla tutti centro destra sinistra Mimma partecipa a diverse missioni rischiose fino alla mattina del 7 agosto del 1944 quando esce per l'ultima volta dall'abitazione in quella che allora si chiamava via delle camicie nere 1 indossando un vestito rosso a pois bianchi parte alla volta della vicina Castelmaggiore carica di armi ben nascoste che doveva consegnare e sulla via del ritorno si ferma a casa dello zio a funo di argelato qui però riceve la visita di soldati nazifascisti che avevano iniziato a rastrellare l'area nei giorni precedenti e qualcuno ahimè aveva fatto un delatore il suo nome e lei viene arrestata con ancora nella borsa alcuni documenti falsificati che dovevano essere consegnati quindi le armi non c'erano più però c'erano le prove però c'erano delle prove della sua partecipazione alle attività partigiane la ragazza viene torturata ininterrottamente per sette giorni e sette notti volevano i nomi dei suoi compagni di lotta ma nessuna promessa di salvezza e nessuna violenza riuscirono a convincerla a parlare riuscirono a farla crollare riuscì a mantenere il silenzio pazzesco e allora i suoi aguzzini la portarono davanti a casa sua è un po come l'episodio di amatore scesa no che viene portato davanti alla famiglia affacciata dalle finestre e lui dice ti remi innanzi e guarda caso sono sempre dei dei cruchi e le danno quest'ultima chance cioè sarebbe stato sufficiente dire un paio di nomi e tutto sarebbe tornato alla normalità nel suo libro pino caccucci ribelli immagina i fascisti a dirle dacci qualche nome potrai entrare in casa farti curare dietro questa finestra ci sono tua madre e tuo padre mimma non risponde neanche in quel momento sussurro solo la frase che molti le hanno attribuito poi passeranno i morti ma resteranno i sogni e dopo l'ennesimo rifiuto gli uomini in camicia nera le impedirono di vedere altro le cavarono gli occhi pensate che poi dopo averla accecata spararono sul suo corpo ormai inerte sotto gli occhi dei suoi genitori mamma mia e il cadavere fu lasciato in mezzo alla strada alla luce del sole il commissario politico della settima gap al ceste giovannini detto cestino andò a trovare novella corazza preposta alla stampa clandestina e a due giorni dall'assassinio bologna si riempì di fogli battuti a macchina che iniziavano così cittadini di bologna la valorosa staffetta della settima brigata gap di bologna irma bandiera è stata barbaramente assassinata dagli aguzzini nazifascisti alla sua memoria venne intitolata anche la prima brigata garibaldi irma bandiera che operò a partire da quell'estate proprio nel territorio di bologna e lei diventò un simbolo della lotta condotta da migliaia di donne che ne seguirono l'esempio e alla fine della guerra lei sarà decorata della medaglia d'oro al valor militare insieme ad altre 18 donne partigiane e diciamo questa questa medaglia recita eroina purissima degna delle virtù delle italiche donne fu faro luminoso di tutti i patrioti bolognesi nella guerra di liberazione non possiamo dimenticare e non possiamo minimizzare è successo le donne della resistenza non furono solo staffette non furono solo infermiere medici che si prendevano cura dei compagni feriti non furono solo organizzatrici degli scioperi nelle fabbriche o sarte che cucivano gli abiti dei partigiani e non furono ovviamente solo madri o mogli che mandavano avanti la famiglia in condizioni difficilissime proprio mentre gli uomini erano in lotta 35 mila partigiane furono vere e proprie combattenti sfidando pregiudizi e tabù presero parte direttamente alla lotta armata partigiana Irma Bandiera fu tra le primissime bolognesi a unirsi alla resistenza armata nella lotta di liberazione il 6 dicembre 1976 non c'è nulla da temere altro che la paura dunque sono mesi di compleanni importanti per il cinema e che cinema e che telespettatori dell'almanaco perché anche lui lo guarda certamente sicuro tra l'altro è spesso in Italia ultimamente a Bologna dove ha avuto un ruolo importante nel festival il cinema ritrovato e ha presentato alcuni film e alcuni restauri stiamo parlando di un grandissimo cineasta tedesco ma cineasta di fama mondiale che ha lavorato in tutti i continenti, ha lavorato negli Stati Uniti, ha lavorato in Sud America, in Giappone e stiamo parlando dunque di Wim Wenders e come spesso accade l'almanaco noi non ci stanchiamo mai di ripeterlo al veleno più terribile si trova sempre un antidoto perché stiamo parlando di un tedesco di un tedesco tra l'altro nato proprio a ridosso dalla fine del conflitto perché oggi il 14 agosto del 1945 quindi ha 79 anni, tanti auguri chiamato Wim da tutti anche se il nome è Ernst Wilhelm Wenders molto più Guglielmino Ernesto Guglielmo era nato a Dusseldorf figlio di un medico chirurgo e di una semplice casalinga la famiglia si trasferisce a Oberhausen quando lui è ancora bambino e al termine della normale carriera scolastica sappiamo che il giovane Wim prova a ripercorrere il cammino professionale del padre medico e quindi si iscrive alla facoltà di medicina poi si passa verso la filosofia e la sociologia poi a un certo punto lascia l'università perché non trova delle lauree per sé se non quelle che poi riceverà ad onore Sorbona, Catania, Friburgo gli dedicheranno a maturazione della sua carriera comincia da subito verso i vent'anni a interessarsi di cinema ha la fortuna di conoscere Peter Anche futuro scrittore di successo e in gioventù i due instaurano un rapporto di collaborazione e di amicizia che si concretizza nella realizzazione di ben quattro film e di alcuni spettacoli teatrali siamo alla fine del 1966, Wenders parte, va a Parigi e sta lì un anno tentando di superare senza successo l'esame per la missione alla rinomatissima scuola cinematografica parigina allora dopo questo viaggio lui torna in Germania a Monaco di Baviera e va a frequentare i corsi alla scuola superiore di televisione e cinema che era stata fondata proprio in quel momento lui è uno della prima nidiata da quel momento Wenders comincia a fare esperimenti con la macchina da presa cerca un realismo quasi esasperato nelle inquadrature poi si innamora della sperimentazione del suono e comincia a giocare con le colonne sonore musica rock e immagini diventano proprio un segno del suo cinema ci sono alcuni cortometraggi alla fine degli anni 60 che peraltro si inseriscono perfettamente in quella schiera della Jünger Deutscher Film la risposta diciamo tedesca alla Nouvelle Vague francese che ha dei nomi molto importanti pensiamo a Fassbinder, pensiamo a Herzog e poi arriva un lungometraggio, il primo 1970, estate in città poi un primo film tratto da un romanzo dell'amico Peter e la lettera scarlatta dove ci sono quelle scene dei bambini cattivissimi che cantano filastroche offensive seguendo la mamma e la figlia con la lettera puntata dovunque vadano senti la fotografia degli spazi devo dire è già bellissima fin dai primi lavori e riesce a dare questo senso di profonda solitudine dell'uomo dal 73 Wenders incomincia a cimentarsi con la tematica del viaggio appunto c'è questa trilogia detta della strada e i titoli sono Alice nelle città, falso movimento nel corso del tempo ed ecco arrivare i primi riconoscimenti internazionali Wenders prova ad affermarsi nel cinema statunitense in particolare su sollecitazione dell'amico regista americano Francis Ford Coppola e anche qui avrà modo di realizzare film e di fondare una sua casa di produzione la Road Movies però l'America forse non è proprio il suo continente il suo luogo visivo e culturale indubbiamente è l'Europa anche se anche in America avrà molto successo allora lui è stato capace di coniugare la ricerca intellettuale con le più elaborate tecniche di ripresa disponibili sul mercato è un regista, non dimentichiamolo che non si è neanche sottratto di fronte alla sfida mai veramente conclusa della terza dimensione del 3D ricordiamo il suo Pina Bausch per esempio è uno che si è messo in gioco tante volte è rientrato a un certo punto in Germania lo stato delle cose per cui tra l'altro vinse il leone d'oro alla mostra di Venezia e poi ha sfornato forse quello che è considerato uno dei suoi più grandi film se non il suo capolavoro Pais, Texas 1984 con cui vince la palma d'oro a Cannes Reghetti lo definisce un Kramer contro Kramer in versione intellettuale sempre di Germania bisogna parlare perché lui è l'autore film che conoscono anche del cielo sopra Berlino onirico, tragico, distopico un po' noioso un po' noioso devo dire diciamolo perché è vero con grande affetto per Wimke lo sa, siamo amici lo splendido Bruno Ganz non il calciatore e anche per questo film arriva la premiazione a Cannes con questo grandissimo maggio alla capitale tedesca Wenders da produzioni impegnate documentari che sono a metà strada tra la fiction e i documentari in senso stretto ha regalato al mondo anche tra i telefilmi alcuni spot pubblicitari per una nota ditta di elettrodomestici e anche per le ban tedesche per le ferrovie Deutsche Bahn ed è stato anche il protagonista del videoclip dei Timoria Milano non è l'America e quindi dobbiamo salutare l'immenso Omar Pedrini poi abbiamo citato Pina Bausch e dobbiamo ricordare Buenavista Social Club con Rai Kuder ha lavorato anche con una delle quattro storie di Michelangelo Antonioni al di là delle nuvole e poi The Million Dollar Hotel del 2000 dove arriva anche l'orso d'argento a Berlino sempre a Berlino l'orso d'oro alla carriera è ancora molto impegnato una delle sue ultime fatiche è Perfect Days però noi ci congediamo con un film atipico che vi consigliamo di vedere Ammet indagine a Chinatown ve ne offriamo un passaggio Suicidio Calan un caso molto interessante la vittima si è dato un colpo in testa con un oggetto contundente poi ha preso una calibro 38 e si è sparato o è successo il contrario prima si è sparato alle nostre spalle c'è il libro devo dire perché è un po' amaro constatare che noi ad agosto si è rimasti qua noi si è rimasti si è rimasti e c'è qualcuno che si è dimenticato completamente di noi che dire la gallina parla da sé noi non ci commuoviamo più perché la vita è fatta anche di durezze e di asprezze sì di asprezze anche di aspirine direi ormai però non è stato bello da parte no spiace spiazze perché ci aspettavamo di essere inondati di doni del ghiaccio almeno il ghiaccio la crema solare per il varano è una protezione 70 che lui beve perché gli piace molto e poi da lì si distribuisce a lui piace quella al cocco perché gli ricorda i suoi viaggi esotici adesso deve stare qua via con Izzugna con Izzugna insomma così è allora noi facciamo il nostro mestiere quindi passiamo al Timbota Mercur de essere in prestito è più semplice di così cioè sentirsi in una situazione di disagio essere in prestito quindi sei in prestito io sono in prestito nel senso che ho chiesto molti prestiti però questa è un'altra storia che affronterei in un'altra sede in una successiva puntata no forse anche in una successiva gabbia ma ne parleremo ne parleremo presto riceverete voi che potete muovervi a Trento al castello del Buon Consiglio la mostra Dürer e gli altri rinascimenti in riva all'Adige fino al 13 ottobre quindi c'è c'è tempo Albrecht Dürer i curatori spiegano la vera tematica di questa mostra sono le origini del rinascimento in Trentino e in Alto Adige in relazione al passaggio di Dürer nei primi anni 90 del 400 che dalla Germania scende in Italia passando naturalmente per la Val d'Adige più che gli acquerelli oggi considerati delle pietre miliari della sua opera un grande impatto in Trentino lo hanno avuto le molte opere grafiche che circolavano xilografie e incisioni che hanno influenzato molti artisti se voi trovate delle xilografie o delle incisioni lì veramente siamo molto molto interessati però ecco in particolare ai bulini io anche ai budini ai budini ai bulini ai beduini ai bovini ai bovini insomma agli ovini chi cambia canale è un bulino un bulino non possiamo dire un ovino perché diventa offensivo neanche un ovino neanche un bovino non è carino io sono ovo viviparo comunque questa è un'altra storia non l'ho mai detto ma credo che sia fai outing è venuto il momento siamo in prossimità di Ferragosto quindi è il momento delle rivelazioni va bene grazie a domani a domani sempre su questa rete sempre su questa rete classica 136 Almanacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simioni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo